Grazie, buongiorno. In realtà invece il tentativo è esattamente l'opposto, è proprio quello di ubbidire un diverso modello di sviluppo. Apparentemente queste tele che per anni hanno rappresentato quasi delle contrapposizioni. In realtà hanno l'unico elemento perfettamente tangibile che è quello del territorio. Noi abbiamo parlato del territorio vissuto anche come elemento di tenuta e coesione sociale, come luogo dove aumentare anche la nostra qualità del benvivere, del benessere, dove produrre e conservare beni primari e dove produrre attraverso un'agricoltura elementi che rafforzano l'identità, che diano una risposta, che garantiscono quindi anche una prospettiva economica. Ma questo lo fai se metti insieme quello che fai sul territorio. Non ci può essere atteggiamenti distonici. Non puoi pensare che un'infrastruttura non abbia dentro di sé le fondamenta di un modello di sviluppo e anche di una tenuta ambientale. E contrapporlo a un altro tema come l'ambiento, quello come tu tenti di fare le politiche dell'abitare in una città, tenti di fare rigenerazione urbana, tenti di scrivere come tu vuoi la città. Io credo che sia sbagliato. Invece metterle insieme ci fa capire che con un atteggiamento olistico, cioè dove tu le guardi tutte insieme, puoi tentare di portare dentro un modello di sviluppo diverso. E lo dico perché per certi aspetti io credo che questo sia possibile. Credo che sia possibile se noi in quei territori, in quelle aree interne, di cui in realtà io provengo perché la mia vita, io sono nato in un'area interna e ho vissuto in un'area interna che si era portata in una città e in una regione come il Lazio. E quindi diciamo che di questi passaggi li ho vissuti anche sulla mia pelle, sulle mie narrazioni, cioè quando tu ti conformi un'idea di come puoi tentare di amministrare un territorio. E allora tu capisci che i modelli di sviluppo che abbiamo usato in questi anni non solo sono fallimentari perché al di là dell'intuizione giusta, metto insieme in un paese come l'Italia, turismo, cultura, agricoltura, ben mangiare, gastronomia funziona. Perché non funziona? Non funziona per alcuni motivi. Uno, se noi non difendiamo lì coloro che sono i portatori di quella cultura apparentemente ovvia per quei luoghi, ma sconosciuta al resto, abbiamo perso la tipicizzazione di un prodotto, di come si realizza quel prodotto, di come lo si costruisce arando un terreno in un modo o nell'altro, conservando sementi in un modo o nell'altro, che è ombreggiato in un modo o nell'altro o che viene in qualche in maniera irrigato con acque che sono mantenute e captate diversamente. Lì c'è la diversità. Se noi non capiamo che quella diversità è l'elemento che ti attrae, che ti dà attrazione, allora non abbiamo capito il modello di sviluppo che dobbiamo mettere in campo. E questo non è solo mera conservazione. La difesa di un'identità della produzione, del territorio e della storia che sta dentro quel territorio, che è la vera ricchezza che ha questo straordinario Paese, che ce la può fare, ma se capisce che quelle non sono solo aree marginali di un modello di sviluppo che dobbiamo conservare, e vive Dio insomma ci sia riusciti, ma che in qualche maniera possono rappresentare la spina dorsale di un forte elemento attrattivo e anche di economia e anche di attrazione per coloro che vogliono investire sul nostro Paese. Questo non si capisce se noi differenziamo, se noi difendiamo la qualità di quei prodotti, se noi siamo anche capaci attraverso norme semplici sull'etichettatura di dire che quello è un prodotto diverso da un altro, di non portare un'omologazione di mercato su questo e di far capire che quella lavorazione più faticosa, più complicata, dentro di sé ha anche il costo di un pezzo di storia, che in realtà è estremamente moderna, è estremamente innovativa, perché questo modello non è conservativo, lo dobbiamo far vivere con un elemento di straordinaria innovazione, rivolgendoci sì alla possibilità di avere banda larga, ultra larga, le infrastrutture del futuro probabilmente sono meno impattanti di quelle che abbiamo conosciuto e dare competitività a quei servizi, conservare quelle persone in quei territori. La grande partita si gioca sulle aree interne, come Regione Lazio abbiamo già presentato una proposta per quattro aree interne nel Lazio, perché noi capiamo che lì attraverso un po' di risorse e idee, perché senza di quelle risorse non contano, noi pensiamo di poter cambiare il corso, di dare l'esempio su come propuovere un elemento di sviluppo diverso. E lo vogliamo fare, e ne siamo convinti di questo, non solo indirizzando quelle che sono, diciamo, le risorse dei fondi strutturali europei, io tra un po' sono affrosinato a raccontarlo, l'abbiamo detto ieri a Viterbo e qualche giorno fa in provincia di Rieti, da vivere come un'opportunità diversa, come un'opportunità di traino addirittura. Non sono risorse che diamo a un'area che deve recuperare qualcosa, ma lo diamo a un'area su cui vogliamo investire, perché lì pagare dei servizi, la differenza dei costi di un servizio, mantenere una scuola aperta, mantiene una comunità viva, quella comunità viva fa agricoltura, protegge le sue fonti, lavora i terreni in un modo che magari, anche il dissesto idrogeologico, con pochi soldi fatti a monte, a valle non accade quello che è successo. Negli ultimi anni siamo in una regione che ha vissuto due alluvioni con staripamenti del Teveni, eventi che non c'erano dal 1956, una roba che non si è mai vista. E nessuno si chiede se, per esempio, quegli elementi di conservazione di quei campi nella parte montana, qualcuno li va ancora a curare, qualcuno fa le arature come le conosceva, qualcuno porta il pascolo come si usava, non se lo sta chiedendo nessuno. La risposta è che purtroppo di questi modelli ne parliamo, li evochiamo, ci aiutano le pubblicità a capire quando qualcosa è più buono, ma non li difendiamo sul serio. Noi con la Regione Lazio ci abbiamo provato, con alcuni esempi, le terre pubbliche le stiamo restituendo a chi vuole, fa domanda ai giovani, le nostre terre pubbliche di proprietà della Regione Lazio sono a disposizione, a bando, le abbiamo messe per essere fruite su questi scopi. Sono poche, è chiaro, ma è un esempio che fa capire dove vogliamo mettere l'attenzione, dove vogliamo mettere le risorse, l'abbiamo detto, con le aree interne, dove vogliamo costruire anche asset più importanti di modernità all'interno di quegli elementi, conservandone la tipicità ambientale, culturale e dell'agricoltura, facendone sì che siano elementi di straordinaria modernità nella conservazione di quello che è un messaggio culturale che riteniamo al centro delle politiche che stiamo tentando di mettere in campo. E quando abbiamo parlato di costruzione, mi rifaccio alla battuta iniziale, dice la cementificazione, noi abbiamo avuto il coraggio di fare una delibera sull'edilizia residenziale pubblica, noi abbiamo affermato due concetti molto semplici, non si fa un metro in più di quello che c'è, o acquisti l'invenduto o fai rigenerazione urbana nel patrimonio pubblico. E lo fai facendo efficientamento energetico, lo fai mettendo dentro nuove tecnologie, lo fai mettendo dentro modernità, restituendo quei luoghi che hanno una storia all'abitare, facendo città. E l'abbiamo scritto, abbiamo fatto due punti, A e B, molto semplici. Su questo abbiamo fatto gli atti su cui vogliamo misurarci. Su questo mi piaceva raccontarvelo in questa mattinata, per far capire anche come su questo, sul dissesto idrogeologico, dove stiamo componendo insieme un progetto anche di struttura che mette insieme la parte geologica, la parte dell'approccio al territorio, delle infrastrutture, la parte dei consorsi di bonifica. Abbiamo fatto una legge sull'acqua, che insomma stiamo discutendo come rendere in qualche maniera congruo anche rispetto ai dettami costituzionali, però abbiamo dato segnali importanti su questo tema. Perché non ci sfugge, anche in questa regione, che la tenuta sociale, rispetto anche, è intimamente legata a alcuni temi del territorio e all'aspetto evocativo che ha l'aspetto ambientale nella nostra storia. L'idea che l'ambiente dove vivi si possa conservare un elemento di sicurezza, che vale più di qualsiasi altro PIL. E noi ci rendiamo conto che l'abbiamo intaccato in questi anni. Quindi la missione è anche questa, restituire credibilità a questi percorsi, restituirla attraverso un progetto che sia leggibile, che sia nei fatti e che al di là delle tante o poche risorse che puoi metterci è comunque un modello che inverte la rotta rispetto a quelli che sono stati citati, che hanno dato quei risultati nefasti che in questi giorni constatiamo nella loro drammaticità. Grazie. Grazie all'assessore, mi viene in mente quando, primi anni Ottanta, ho lavorato per un po' per l'ufficio Parchi della Regione Lazio, si chiamava così un tempo, Maurillo Cipparone, un nome storico dell'ambientalismo italiano, che ha la mia età, se lo ricorda, ancora sul campo per forza. I parchi nel Lazio, mi ricordo l'immagine, era quando si andava là ci portati i lupi, i famosi lupi lanciati col paracadute, le vipere che scendevano, portate da personaggi con degli strani scafandi, ma non lo dicevano solo magari alcuni abitanti abitanti, ovviamente poco informati, ma lo dicevano anche alcuni esponenti regionali e assessori, quindi il tema adesso è tutt'altro e questo ci è voluto il tempo, però in fondo cosa sono 30 anni? Sono niente, però ne abbiamo anche pagato pesantemente alcune conseguenze. Credo che l'assessore ricordando le frequenti, diciamo così, arrabbiature del nostro biondo Tevere, io non me le ricordo da bambino sinceramente, un campanello d'allarme sicuramente ce lo sta dando e quindi è molto importante questa ulteriore attenzione. Adesso Italia, ci allarghiamo un po', mi sembra, alle tematiche, per poi tornare a parlare del nostro paese. Rosa Laura Romeo del programma Mountain Partnership della FAO.